Amor, sei arrivato e ti sei fiondato nel pacco, manca a dire buongiorno amore mio, sono arrivato, sono tornato, subito un nuovo pacco di Nisti No, l'ho detto, buongiorno amore mio, ora è così, il paccone Di chi è questo pacco? Di chi è? Che bello, ma che è? Ah, c'è un biglietto, abbiamo il biglietto La signorina per i pacchi si è messa di nuovo in movimento, non sia mai restiate morti di fame, è colpa mia, buon Natale, variera, gelso, vai, dolce, raguza Valeria, gelso, vai, dolce, dolce, ora ci dicono pubblicità, sì, pubblicità, dolce, pubblicità, raguza Buoni, grazie, tutti i biscottini che mi piacciono a me Ma che sono con i fighi? Con i fighi, col vino cotto, me li mangio tutti io Più mia, nenti, niente, 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 qua il panettone Facciamoli vedere bene, no, intanto faccio vedere Ma che me li rubi? Ragusa, via Piemonte 9, pasticceria dolce Me li rubi? Non te li rubo Dammi, faccio vedere io, grazie, questo è un bel panettone artigianale Vabbè, lo apriamo Quindi voi di Ragusa andate da Dolcè, che si trova a Ragusa Andiamo da Dolce Mamma mia, non lo voglio strappare Eh, ma lo dobbiamo aprire, eccetto, perché sennò come faccio a aprire io? È un scatolo Ma che è, con l'uva passa? Certo, passa, lo devo aprire tutto Eh, certo, ma lo dobbiamo fare vedere, no Io me lo vendevo Tanto loro lo vedono e noi lo mangiamo Scelto Vediamo Vediamo Buono No, a cioccolato Questo è per me, sicuramente No, mi vengono i brucoli, ciao a te Grazie Valeria Grazie Grazie Dolce Ora, non siamo più morti di fame, amò Meno male Ma meno scelto Ma vogliamo andare, sei chi le sassizza E non avvi una macelleria, ma c'è una pasticcia E apri di una macelleria? Eh Avanti Grazie Ciao, grazie